Panni stesi lungo la via verde, profumati, lindi, asciugati, non sono i suoi? No, assolutamente no perché ho spazio abbondante in casa per stendere panni, anzi sono io che a volte denuncio queste situazioni. Indignazione comune e legittimo disappunto di chi intende invece preservare il bene comune, difendere la via verde costa dei Trabocchi, dati di inciviltà purtroppo sempre più frequenti. Dopo i parcheggi selvaggi ha fatto notizia e clamore la fila di biancheria stesa lungo la pista ciclopedonale tra un cartello segnaletico e un dissuasore proprio dove l'extracciato si interrompe in Borgata Marina di Torino di Sangro aspettando il collegamento con località Lemorge, frane ed erosione attendono un ponte e barriere radenti. Pierfranco Luciani abita proprio nel luogo del misfatto, travolto anche da facili giudizi sul web che hanno ricondotto l'incredibile episodio ai residenti che invece sono i primi, lui puntualizza, a vigilare. L'area parcheggio è purtroppo da anni sosta non concessa per camper, roulotte, gruppi di viandanti che sporcano, oltraggiano la bellezza dei luoghi, non possono contare tra l'altro su servizi igienici o cestini. Ed ecco il degrado documentato dal Tg Max. Anni fa esisteva un'ordinanza che impediva campeggi o soste prolungate, ora è tutto portofranco. Sono sinceramente stufo e sto pensando anche a qualche cosa di un po' più concreto. Tipo? Io so che per esempio ci sono degli avvocati che si occupano proprio di difendere il bene pubblico e quindi di richiamare chi ha la responsabilità di preservare il decoro e la salute pubblica, di fare quello che è nel loro manzionario, quello che è nei loro compiti. Qualcuno ha ricondotto a lei, alla vostra famiglia? Ma sì, perché ormai anche io ho pubblicato delle foto su Facebook e tutti quanti pensano all'inciviltà. Però io, che ho anche viaggiato, ho vissuto per un anno all'estero, in Svezia, a Göteborg, non si vede una cicca per terra, non si vede un'auto come quella parcheggiata fuori posto. A me è successo che una mattina del lunedì di Pasqua mi era scaduto il parcheggio alle 6 del mattino, non ho fatto in tempo, sono sceso alle 6 e mezza e ho trovato già una multa di 80 euro. La differenza non è nella mentalità delle persone, perché le persone che vengono qui vanno anche all'estero, le persone che vengono qui vanno anche in Trentino. Perché lì si comportano bene e qui invece no? Non è quello che voglio far capire, perché poi alla fine tutti quanti se la prendono con l'inciviltà delle persone. Non è quello il problema, è che le persone sono incivili perché possono essere incivili.